Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books Io sono Tiffany e oggi continuiamo la carrellata di consigli per Halloween In questo caso vi consiglio qualche titolo che ha a che fare con il paranormale il gothic mystery ambientato in epoca vittoriana Complessa come cosa ovviamente, se no non sono contenta Volevo darvi anche in questo caso dei consigli per Halloween un po' fuori dalle righe non troppo scontati che potete recuperare non tutti in questo caso sono in italiano, anzi credo un titolo su tutti gli altri però voi siete pazienti, siete bravi e quindi potete indagare Il primo titolo che vi consiglio oggi è La donna in bianco di Wilkie Collins Walter Hortright è un insegnante di disegno in grave difficoltà e sta camminando una sera a mezzanotte per tornare nella sua Londra dopo aver visitato la madre e la sorella un viaggio molto tranquillo, la strada è completamente vuota, tutto immobile anche le foglie di tutti gli alberi non tremolano non si sente proprio nulla al di là dei suoi passi ma a un certo punto qualcosa tocca la spalla di Walter una misteriosa donna vestita di bianco, tale Anna Catherick si aggira per le strade di Londra e nessuno conosce il suo segreto Anna, la donna in bianco, assomiglia tantissimo a Laura Fairlie una delle due giovani donne che vivono con Frederick Fairlie cioè l'insolito zio che ha proprio assunto Mr. Hortright per insegnare pittura e acquerello questo è solo il primo di una serie di intrighi, apparizioni e sparizioni delitti e scambi di identità che compongono la trama della donna in bianco nel 1860 Charles Dickens pubblicò proprio sulla sua rivista All the Year Round il racconto a puntate suscitando uno straordinario interesse che tenne incollate alle pagine il pubblico per oltre un anno infatti il pubblico seguì per tutto l'anno le vicende della sfortunata Anna Catherick e quelle di tutti gli altri personaggi la donna in bianco incarna inconfutabilmente l'essenza stessa del romanzo gotico e vittoriano la storia infatti è maneggiata da mani molto abili piena di colpi di scena che appassiona fin dalla prima pagina e doveva appassionare proprio perché usciva a puntate su un giornale tutto dentro la storia si incastra alla perfezione e la storia è raccontata da diversi personaggi quasi come se fossero chiamati da un tribunale a testimoniare ciò che hanno visto e a rendere insomma la loro testimonianza e proprio il fatto di aver reso questo racconto attraverso diverse voci rende la storia ricca di sfumature, sempre più ampia e ti permette di viverla secondo tanti punti di vista e l'autore è talmente abile che riesce proprio a immergersi completamente nel personaggio che sta raccontando la storia cambiando addirittura il linguaggio di base usando proprio un registro molto diverso da personaggio a personaggio proprio in base a quale personaggio viene scelto per raccontare quel pezzo della storia e quindi secondo me è un romanzo molto riuscito assolutamente contemporaneo con il tema che abbiamo oggi e che io vi consiglio se non l'avete mai letto perché è un classico che qualche brevidino ve lo dà se siete appassionati di mistero e di queste cose non ve lo potete fare scappare dovete aggiungerlo alla vostra lista il secondo consiglio che vi do non esiste in italiano però insomma secondo me è un romanzo che merita è una serie molto molto carina ed è Jack Bay di William Ritter Jack Bay è stato annunciato come il punto d'incontro tra Doctor Who e Sherlock metti le due cose insieme per forza bisogna apprezzarle cioè devi fare qualcosa che io amerò sicuramente ci troviamo a Newfiddleham nel New England nel 1892 Abigail Rock è appena arrivata ed è in cerca di un lavoro qui incontra proprio Mr. Jack Bay un investigatore dallo sguardo un po' strano inspiegabilmente acuzzo è capace di captare cose straordinarie inclusa la capacità di poter vedere esseri soprannaturali invece Abigail ha uno straordinario dono nel riuscire a vedere tutti i dettagli delle cose invece molto più ordinarie e la rendono la perfetta assistente di Jack Bay e proprio durante il suo primo giorno di lavoro Abigail si ritrova coinvolta nel mezzo di un caso elettrizzante un serial killer è in libertà la polizia è convinta che sia un comune criminale ma Jack Bay ha tutt'altra opinione ed è convinto che ci sia una creatura misteriosa dietro tutte queste morti e la polizia ovviamente nega allora Jack Bay è un romanzo e poi è una serie in realtà secondo me è molto divertente e molto di intrattenimento troviamo proprio il punto di congiunzione tra ciò che già conosciamo del personaggio di Sherlock che è sicuramente una delle rivisitazioni con chiarissimi riferimenti nel personaggio di Jack Bay perché proprio riesce a rendere perfettamente l'umorismo a cui Sherlock ci ha abituato alle sue battute molto sagaci però riesce anche ad accostare grazie alla storia, alle sfumature anche molto fuori dall'ordinario alla presenza di creature eccetera l'aspetto che effettivamente aveva senso nella presentazione introduttiva cioè quell'aspetto un po' eccentrico alla Doctor Who Jack Bay ha tutta l'atmosfera di un romanzo di mistero vittoriano tutte le battute umoristiche che noi amiamo di Sherlock ha personaggi molto complessi e una scrittura molto piacevole e soprattutto è dannatamente affascinante perché è divertente intrattiene proprio a pieno forse non è il libro più imprevedibile della storia ecco, ma sicuramente è un'ottima lettura di intrattenimento che io vi consiglio soprattutto se amate Sherlock Holmes e cose vicine da Sherlock passiamo invece a tutt'altra atmosfera perché vorrei parlarvi di A Great and Terrible Beauty ovvero una grande e terribile bellezza di Libba Bray questo c'è anche in italiano ci troviamo alla fine dell'Ottocento e alla morte della madre la sedicenne Gemma Doyle che ormai è trascurata dal padre perché è dipendente dal Laudano lascia Bombay che è la città dove è cresciuta per frequentare un severo e molto cupo college femminile nei dintorni di Londra che si chiama Spence Academy qui dopo molti tentativi riesce ad entrare nell'esclusivo gruppo composto dalla potentissima Felicity Pippi e Anne il primo periodo tutto sembra molto noioso e anche parecchio nella norma fatto di noiosissime lezioni disciplina super rigida ma anche oscure visioni che tormentano il sonno di Gemma Gemma scopre grazie ad un diario segreto che riesce a reperire l'esistenza dell'ordine ovvero una congrega dedita alla magia e alla ricerca di universi ai paralleli dove tutto è possibile insieme alle amiche Gemma è convinta di volerne sapere di più e cerca di indagare in tutti i modi proprio sull'ordine anche se questo la porterà in situazioni molto pericolose ed imprevedibili allora Lib Bray è un'autrice che sto scoprendo molto quest'anno in realtà e forse qua si nota la sua immaturità qua era molto giovane quando l'ha scritto però devo dire che forse per un pubblico molto giovane questo è un libro molto molto interessante che vi intratterrà perfettamente detto così forse non è una premessa grandiosa però in realtà è un libro che ha degli spunti molto molto interessanti gli elementi magici l'atmosfera oscura si mescolano a tantissime vicende invece più adolescenziali al tema del college al tema della scuola del gruppo di amiche insomma ci sono tanti elementi secondo me che rendono questa serie questo libro molto molto affascinanti quindi forse ci si aspettava un po' di più e sicuramente avrebbe potuto dare di più ma io ve lo consiglio sicuramente l'ultimo consiglio di oggi è The Seance di John Hartwood e questo è sicuramente il consiglio più adatto agli appassionati di Shirley Jackson e compagnia ecco noi qua ci troviamo a Roxford Hall una dimora in decomposizione nella campagna inglese che ha una reputazione assolutamente sinistra infatti una volta una famiglia è scomparsa proprio da questo luogo e ora Constance Langton ha ereditato questo luogo e con esso tutti i misteri che si porta dietro cresciuta in una casa che è stata segnata dalla morte della sorella Constance non è estranea ai misteri ai segreti e alla magia oscura che ci circonda suo padre è sempre stato distante sua madre non ha mai superato il lutto per la figlia perduta nel disperato tentativo però di riportare la madre alla sanità mentale partecipa insieme a lei ad una seduta spiritica sperando di poter trovare un po' di conforto nel soprannaturale è già un piano del ma ovviamente ne seguono tragiche conseguenze lasciando sola al mondo Constance sola con Ruxford Hall e ormai sola e in balia di questa casa misteriosa Constance non può fare altro che risolvere il mistero e portare alla luce le verità nascoste dietro questa in fausta eredità e ciò che l'attende sono sparizioni apparizioni tradimenti ricatti malvagità e chi ne ha più ne metta allora questo è proprio un avvincente misteri a tratti comunque fantastico ambientato in epoca vittoriana e proprio nel cuore dell'Inghilterra quindi insomma ha tantissimi elementi che lo rendono già di per sé affascinante è quindi perfetto per tutti quelli che amano il gotico l'ambiente vittoriano e l'Inghilterra ok che ha elementi di mistero di soprannaturale che è romantico ma allo stesso tempo ha elementi familiari e personaggi profondamente caratterizzati che pensano a fondo insomma ci sono tantissime parti che lasciano all'introspezione dei personaggi soprattutto quella di Constance che riflette profondamente su ciò che le succede su ciò che succede ad altri e alla propria condizione è una grandissima storia secondo me a mio parere che ha una costruzione lenta ed è perfetta per coloro che amano invece vedersi costruire le atmosfere piano piano e ad arricchirla man mano che si va avanti dentro la storia e i personaggi sono sicuramente brillanti anche per questo è un ottimo libro ovviamente lo scopo di Constance sarà quello di riportare in luce una verità che nessuno aveva conosciuto prima e sarà molto avvincente seguirla niente io chiaramente ve la consiglio c'è solo in inglese anche questo volume ahimè niente detto ciò per oggi i miei consigli sono finiti e io spero che vi siano interessati e che non siano risultati scontati anche in questo caso fatemi sapere se avete letto qualcosa che ho suggerito o se avete intenzione di leggerlo perché ovviamente vi ho allungato la TBR io di nuovo vi ringrazio anche per il video di oggi e direi che ci vediamo al prossimo ciao ciao